buongiorno a tutti in questo video tutorial andremo a vedere nella compilazione del modello di presentazione la domanda per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da parte di chi è inserito in gradatoria esaurimento in gps come compilare la parte delle precedenze di cui alla legge 104 del 5 febbraio 92 sarebbe l'ultimo dei delle sezioni eventualmente da compilare chiaramente non è obbligatoria ma se qualcuno dovesse fruire di queste precedenze è bene che compili questa sezione andando all'azione disponibile inserendo la precedenza notiamo che c'è questa dichiarazione che ripetiamo è una dichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 76 del dpr 445 del 2000 chiaramente si dichiarano le situazioni di precedenza dell'articolo 21 della legge 104 92 o dell'articolo 33 comma 6 della legge 104 92 o dell'articolo 33 commi 57 con la connotazione dello stato di gravità del congiunto che si deve assistere notiamo in questa compilazione domanda che la terza e quarta opzione sono identiche dunque si presuppone che probabilmente c'è una errata corrige da dover fare da parte del ministero perché non capiamo come il fatto che si sia inserito nella stesso modello di domanda due ipotesi completamente identiche dunque e eventualmente saranno tre e non quattro come si va a compilare per esempio la persona che ha uno stato di invalidità civile e superiori ai due terzi e dunque fruisce dell'articolo 21 potrà dichiarare cliccando proprio l'istanza del su questa casella e poi salvare l'istanza in modo tale d'aver dichiarato la precedenza chiaramente tale precedenza il sistema la considera in questo modo in modo da poter poi compilare successivamente l'ente che ha rilasciato la certificazione la data del della certificazione rilasciata e il numero dell'atto e poi si inserisce scegliendo il file il proprio il documento della certificazione che attesta lo stato di invalidità civile dunque proprio il verbale della commissione che ha convalidato questo diritto di legge e poi facendo salva verrà salvato questa opportunità di fruire per la priorità della scelta della sede nel caso ci siano questioni proprio riferite alle supplenze la scelta della sede per cui il docente che fruisce di questa legge ha diritto di priorità speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri telespettatori vi invitiamo a seguirci nel nostro sito www.tecna scuola.it e nei nostri canali social arrivederci a tutti www.tecna scuola.it e nei nostri canali social arrivederci a tutti